Dopo il primo posticipo causato dal maltempo, il carnevale è partito e avuto particolare successo anche nella cittadina di Petrosino. Carri, gruppi maschere e poi le serate danzanti alla Pala Carnival, struttura di recente apertura. La sfilata annullata per il maltempo sarà comunque recuperata il prossimo fine settimana, per quello che una volta si chiamava il carnevalone. Il carnevale di Petrosino, come già sapete, non è solo la sfilata dei carri. I carri allegorici sono i veri protagonisti, ormai da più di 30 anni, ma il carnevale di Petrosino offre tanto tanto altro e chi entra dentro questo meraviglioso Luna Park potrà gustare, approfittare di tanti spazi dalla strada del gusto allo spazio per i bimbi al Polivalente, al Luna Park o semplicemente passeggiare tra i viali di Petrosino insieme a questi meravigliosi carri e ai tanti gruppi in maschera. Petrosino vi aspetta, numerosi, è una sorpresa anche per il prossimo weekend, visto che ci siamo persi il primo weekend del carnevale, insomma recupereremo nei prossimi giorni, nel prossimo weekend, sabato e domenica. Petrosino è ancora aperta, a braccia aperte per questo carnevale del 2024. Vi aspettiamo! Grazie! Grazie! Grazie.